Quindi come hanno allungato l'edificio preesistente, inglobato tutto nelle rocce. E' un attacco più basso, prima o poi basso. Ora si dovrà fare secondo l'anser, quindi c'è un'altra parte di scuola. E' una riparta arriva da lì. E' una massura. A ça l'interview. Stiamo facendo l'operazione. 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 Stiamo facendo. 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 Stiamo facendo.